Bella raga e bentornati in questo nuovo video Allora siamo nelle 36 del Dodo Perché questa sera facciamo un qualcosa di speciale Che non abbiamo mai portato su Youtube E proviamo a portarlo Anche se di notte si filma un po' male Vediamo, insomma ci proviamo Ci siamo attrezzati Portiamo una Toge Night Dove sostanzialmente ci siamo riuniti Tra noi appassionati, nei buttati di traverso E andiamo su Perimonti Dove Dodo? In Slovenia? Sì andiamo in Slovenia Esatto andiamo Oltre confine Butei perché qua è pericolosa la situazione Ciao ragazzi Stasera sgommiamo Lo sapete Ce l'ha aggiunto anche il mic Il Leo l'avete visto prima Guarda che bella maglietta Siamo pronti alla Toge Night Regà era nuovo inizio serata sono già a metà bene ragazzi dove siamo leonardo niente ha piangerato tutto il monte dio e dove siamo si dice no si dice dove siamo è questo segreto il paradiso della provincia è davvero in slovenia hai ragione che slovenia dio bella ho fatto se la faccio più a vederle curve raga ha piangerato tutta l'intera montagna basta pausa dopo ricominciamo sei pronto per la tua gennaio in realtà no allora michelino si cambia le gomme se gira con ragazzi altro che giri in pista a pagamento qua in slovenia è tutto piccolo slovenia paese libero a 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 seconda blocco ponte si toglie la frizione come vi abbiamo insegnato nei reel e nei video che facciamo e allora va sulla macchina siamo alla sede tornanti della slovenia ovviamente non quella a trento bondone ma quella in slovenia quella famosissima della slovenia e è stato un po' un casino portare qua la macchina fino in slovenia per una notte di drift però ce l'abbiamo fatta ecco poi stasera riporteremo l'auto a a verona insomma perché siamo in zona verona rega ora gustatevi le altre sgommate a a a a a a a a bella ragazzi allora la tokenite è sostanzialmente finita o meglio sta proseguendo fuori dall'auto siamo ritornati in auto dove è iniziato il video perché ha iniziato a piovere quindi le riprese diciamo è complicato farle quindi purtroppo il video è breve però spero vi sia piaciuto detto ciò vi ricordo di iscrivervi al canale così ci supportate ci date una mano andateci a seguire anche su instagram e commentate qua sotto cosa ne pensate sempre con di traverso